buongiorno a tutti io sono mario catania giornalista freelance specializzato in cannabis ed intorni oggi facciamo un po il punto della situazione di tutta questa discussione nata dalla proposta di legge per l'autoproduzione poi sfociata in questa raccolta firme per proporre un referendum lo facciamo con riccardo magi che è il presidente di più europa è uno dei parlamentari più attivi per quello che sono le battaglie della cannabis più in generale riccardo io volevo proprio partire da quello che non mi stancherò mai di definire come tuo capolavoro politico e quindi per il funzionamento diciamo dei nostri meccanismi parlamentari la possibilità di proporre quella legge che appunto depenalizzerebbe la coltivazione di quattro piante in risposta al fatto che la lega aveva proposto una legge opposta che avrebbe inasprito le pene che avrebbe tolto il concetto di lieventità e proposto l'arresto in fragranza di spaccio partirei da qui spiegaci un po che cosa è successo sì intanto grazie a te grazie a voi di questa occasione di approfondimento su questo tema ci trovavamo in quel momento alla fine del 2019 e da una parte avevamo una difficoltà a portare all'interno delle aule parlamentari quindi all'interno delle istituzioni il dibattito che per tutti noi è urgente e comunque sia arriva in ritardo su una riforma della normativa sugli stupefacenti a partire da una legalizzazione o forte depenalizzazione della cannabis e in quel momento la lega era appena finita l'esperienza del governo conte 1 quindi la lega era passata con la nascita del conte 2 all'opposizione presentò una proposta di legge molto repressiva che addirittura andava ad inasprire le pene anche per i fatti di lieventità addirittura rendendole più più gravi più forti di quelle dei fatti non di lieventità e quindi sembrava davvero allontanarsi dalla possibilità invece di aprire il dibattito che andasse nella direzione che noi tutti auspicavamo e auspichiamo eh tuttora dall'altra parte la nuova maggioranza cioè partito democratico e movimento 5 stelle pur avendo al suo interno degli esponenti ehm convinti anche antiproibizionisti ma comunque in minoranza all'interno dei propri gruppi e quindi difficilmente si esponevano questi partiti con proposte che andassero nella direzione di una legalizzazione e in quel momento ho pensato che fosse utile fare un tentativo cioè agganciarci alla proposta di legge presentata dalla lega prima firma Molinari a cui ho fatto riferimento utilizzando un escamotage procedurale cioè l'obbligatorio abbinamento quando due proposte vertono sullo stesso esattamente sugli stessi articoli di una stessa norma cioè vanno a modificare gli stessi articoli a prescindere dal fatto che lo facciano andando in direzioni politicamente opposte da regolamento le l'esame delle due proposte deve procedere in modo abbinato quindi simultaneamente poiché quella proposta era eh l'esame di quella proposta era chiesto dalla lega in quota minoranza quindi paradossalmente siamo arrivati ad ottenere un dibattito su una questione eh di depenalizzazione di introduzione dei fatti eh di lieventità e eh con una distinzione fra le sostanze e di legalizzazione vera e propria della coltivazione domestica per uso personale utilizzando diciamo una sorta di trenino agganciandoci alla proposta della lega che chiedeva in commissione la discussione da lì è nata una lunghissima ciclo di audizioni che è durato praticamente un anno e mezzo era iniziato prima dell'arrivo del covid pensate è proseguito in parte poi i lavori si sono interrotti è ripreso dopo eh e siamo arrivati fino alla eh alla adozione del testo base eh la proposta appunto per dirla sinteticamente prevede la legalizzazione della coltivazione domestica per uso personale la diminuzione delle pene per i fatti di lieventità eh una diminuzione che è ancora più forte per i fatti della eh della cannabis e poi nel testo unificato anche si vanno a toccare le sanzioni amministrative eh per i consumatori. Adesso è stato recentemente eh fissato il termine per gli emendamenti sul testo base. Allora inciso eh questione di eventità come hai sottolineato più volte eh come anche ha sottolineato la nostra ministra della giustizia bisogna fare degli interventi a livello eh legislativo perché le persone per reati di lieventità non vadano più in carcere. Come hai sottolineato tu quando si dice questa cosa si parla nella stragrande maggioranza dei casi di stupefacenti perché sono quelli reati di lieventità che a oggi portano in carcere come dice il generale della finanza ancora in sette casi su dieci. Corretto? È esattamente così. Purtroppo nel dibattito sulla giustizia eh di questi tempi eh si vive un po' una schizofrenia. In che senso? Nel senso che sono tutti d'accordo con la ministra Cartabia quando eh lei dice eh bisogna eh evitare che per fatti di lieventità si finisca in carcere. Se poi però si dimentica di aggiungere che si finisce in carcere soprattutto per fatti di lieventità che hanno a che fare con le sostanze stupefacenti e allora non si è più d'accordo. Tanto è vero che come ricordavi tu nella eh quasi totalità dei casi si finisce in carcere per fatti di lieventità eh che hanno a che fare con le droghe. Cioè i giudici già ora avrebbero la possibilità di applicare la lieventità ma comunque la lieventità porta in carcere. La lieventità nasce proprio con eh eh diciamo l'obiettivo eh che un giudice di fronte a un fatto, a una condotta che è reato ma che lui valuta non avere un impatto sulla società diciamo sulle conseguenze che determina può ridurre di molto la pena. Ecco ehm né in quella proposta di legge noi andiamo a ridurre significativamente le pene per i fatti di lieventità al punto da evitare nella maggior parte dei casi eh l'ingresso in carcere. Che ricordo le nostre carceri come eh evidenziato l'ultimo report europeo sono le più sovraffollate d'Europa anche proprio per i continui ingressi di di ritorno. per persone che commettono reati di questo tipo. E eh andando avanti eh era agosto quando tu eh probabilmente avendo annusato quello che sarebbe successo avevi iniziato a paventare la possibilità di fare un referendum nel senso che come hai detto prima si è arrivati oramai al testo unificato che è stato votato in commissione. Ed agli si apre la fase degli emendamenti. eh la destra ha già annunciato che ne avrebbe presentati migliaia con l'unico scopo di appunto bloccare l'iter della legge e fare in modo che non si arrivasse mai a passare poi un testo definitivo alle camere del Parlamento. E quindi è stato lì che l'idea di fare un referendum è diventata molto più concreta eh nonostante i tempi poi si sono rivelati molto stretti. È corretto? Esatto. Questo è un punto politico fondamentale di snodo. Eh penso che insomma nessuno come me abbia a cuore che la proposta parlamentare cioè la proposta che era mia prima firma ma firmata da tanti altri colleghi del Movimento 5 Stelle alcuni del PD di Leo eh abbinata poi a quella della Lega alla quale poi si è aggiunta una proposta a prima firma Licatini che riguarda solamente la questione della coltivazione domestica. Tutte queste sono state poi in qualche modo recepite nel testo base eh che abbiamo preparato con il presidente Perantoni e successivamente ricordiamolo la Lega a quel punto ha chiesto e ottenuto il disabbinamento della sua proposta perché ovviamente non si riconosceva più politicamente in quel testo base. Ecco nessuno più di me ha a cuore che questo iter parlamentare vada avanti. Però dobbiamo anche guardare la realtà. Io ho chiesi subito ancora prima dell'adozione del testo base perché avevo capito delle difficoltà che c'erano. Ricordiamo che in Commissione Giustizia già a fine luglio tutto il centrodestra più Italia Viva eh quando doveva essere votato a fine luglio nell'ultima seduta prima della pausa estiva quel testo base chiesero il rinvio. Eh poi nella seduta nella prima seduta eh di settembre quando sono ripresi i lavori Italia Viva si è astenuta e eh diciamo il centrodestra ha votato contro ma il testo è passato. Io chiesi subito un impegno esplicito da parte della maggioranza, di quella maggioranza che aveva approvato quel testo base, un impegno a portarla in aula. Perché? Perché conosciamo come funzionano le dinamiche parlamentari, l'adozione di un testo base è solo l'inizio, è un punto importante ovviamente, ma è solo l'inizio dell'iter in Commissione. Poi andranno presentati gli emendamenti, andranno discussi e votati gli emendamenti, andrà approvato il testo finale in Commissione e poi il testo dovrà passare in aula. Allora chiesi l'impegno a tutti di portarlo in aula, cioè di trovare una corsia preferenziale che garantisse l'arrivo in aula. Non solo questo impegno non c'è stato, ma c'è stato dall'altra parte un fuoco di fila di esponenti del centrodestra, anche di calibro pesante direi, da Salvini a Gasparri, a Rantelli, a Pillon, che hanno sostanzialmente detto che quel testo non andrà da nessuna parte, noi lo sommergeremo di migliaia di emendamenti, non è una priorità per la maggioranza di governo, anzi addirittura alcuni sono arrivati a dire che metterebbe a rischio la maggioranza di governo e quindi la tenuta stessa del governo, bisogna rispettare una maggioranza così composta. Lì abbiamo capito, io ed altri che poi siamo i promotori del referendum Cannabis con Marco Perduca, Antonella Soldo, Leonardo Fiorentini, Franco Corleone ed altri giuristi che ci hanno aiutato nella preparazione del quesito, abbiamo capito che mettere sul tavolo la possibilità referendaria e quindi dare la parola ai cittadini non poteva far altro che rafforzare semmai anche l'iter parlamentare, sono due strade convergenti che possono rafforzarsi l'un l'altra nell'ottenere qualche risultato, altrimenti lasciarne solamente una rischiava di lasciarla all'insabbiamento a cui tutte queste forze politiche che ho citato o volevano destinarlo. Certo, credo che questa sia anche una risposta al fatto che, poi adesso ci torniamo, visto che il referendum è andato molto bene oltre ogni aspettativa, adesso ci iniziano ad essere dei commentatori politici che dicono che però magari il referendum con le firme digitali non è uno strumento che rischia quasi di svilire il Parlamento e che quindi probabilmente c'è già chi dice che bisognerà aumentare il numero delle firme, che bisognerà insomma a cambiare questa dinamica, che cosa ti senti di dire tu a proposito? Mi sento di dire che è un tema, è un dibattito mal posto in questi termini ed è posto così mi sembra rispecchiare solo la volontà di porre di nuovo degli ostacoli alla partecipazione dei cittadini nel momento in cui grazie allo speed e alla firma digitale noi eravamo riusciti a rimuovere quegli ostacoli. Intanto questa è stata un'estate di raccolta di firme su diversi referendum, il referendum sull'eutanasia ad esempio ha utilizzato la firma digitale ma ha superato solo le firme cartacee e le 700 mila firme, con quelle digitali si è arrivati a oltre un milione, il referendum sulla giustizia hanno raccolto solo in cartaceo, questo referendum sulla cannabis ha raccolto le firme esclusivamente in modalità digitale, a mio avviso c'è un valore dello strumento sicuramente che ha semplificato e agevolato la possibilità, il diritto dei cittadini di attivare questo strumento di partecipazione ma c'è anche la forza del tema, questo è il punto e si sta tentando invece di sminuire il tema, il merito del referendum dicendo che con lo speed è troppo facile. Vi invito a una riflessione, ci sono altri referendum in corso, raccolte di firme sulla caccia che utilizza lo speed, su quello sul Green Pass che utilizza un'altra firma digitale, c'era Renzi che aveva annunciato un referendum sul reddito di cittadinanza proprio dicendo che avrebbe utilizzato la firma digitale, non è neanche partito. Cosa vuol dire questo? Le difficoltà di queste iniziative referendarie che utilizzano o avrebbero potuto utilizzare lo speed dimostrano che bisogna andarci piano a dire troppo facile ora. Io credo che ci fosse nel paese una grande attesa da parte dei cittadini per dire la propria, per aprire un dibattito e per cambiare una legge che in tanti, in milioni di persone io ritengo, ritengono sbagliata. E quindi valutiamo le cose, soprattutto le cose di natura costituzionale, ulteriori modifiche al numero delle firme, io a quel punto direi anche al quorum magari, perché quella è un'altra cosa da modificare, perché i referendum spesso vengono disinnescati o meglio vengono sabotati con l'invito ad andare al mare, a fare altro, a non andare a votare, che è l'arma forse più forte che hanno gli antireferendari, cioè non entrare nel merito della questione, far mancare l'informazione necessaria perché i cittadini che non sono informati magari si facciano un'idea e in quel modo sabotare, non confrontarsi sul merito. Ecco, io penso che anche questa polemica che sta avvenendo sullo speed, che tra l'altro è uno strumento con cui noi iscriviamo i figli a scuola, paghiamo le tasse, accediamo al nostro cassetto sanitario, facciamo atti giudiziari, procure importanti, non si capisce perché non dovremmo poter sottoscrivere una proposta, una richiesta di referendum. Ho letto addirittura dei commentatori sono sorpreso da tanta attenzione, ma forse non dovrei esserlo perché mi pare che già sia partita proprio una campagna antireferendaria, ho letto addirittura che non sarebbe una firma consapevole, come se noi siamo consapevoli quando paghiamo le tasse, ma all'improvviso non siamo consapevoli facendolo con speed se firmiamo un referendum. Quindi direi andiamoci piano, i limiti per il referendum già ci sono, sono previsti dalla Costituzione, dalla legge ordinaria, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che dovrà valutare l'ammissibilità del quesito, quindi già ci sono dei paletti. Se il Parlamento è indebolito, è indebolito dal fatto che chi sta in Parlamento non vuole affrontare determinati temi. Lo ricordo sempre in questi anni sulla legalizzazione della cannabis, sull'eutanasia, sulla ius soli, sono state proposte depositate leggi di iniziativa popolare che il Parlamento non ha neanche discusso. Questo è lo squilibrio che c'è, non quello che si sta verificando con lo speed. Certo, e fatto sta che comunque il referendum, la raccolta firme è stata indetta anche abbastanza in fretta per una questione di tempistiche, perché poi la prossima finestra utile se no sarebbe stata addirittura nel 2023. Lo si è annunciato tra l'altro, il mondo antipreobizionista sarà annunciato aspettandosi il miracolo, ma quasi credendoci poco, perché in teoria 20 giorni per raccogliere 500.000 firme sembravano pochissimi. In realtà la risposta poi è stata incredibile e si sono raggiunte in circa una settimana, adesso le abbiamo superate. Quindi adesso stiamo già guardando ai prossimi passi. Tu oggi hai fatto un post spiegando che c'è un rischio, nel senso che sono stati richiesti certificati elettorali ai circa 8.000 comuni delle persone che hanno votato e molti hanno fatto sapere che non riusciranno a farli avere nelle 48 ore in cui dovrebbero consegnarli, quindi c'è il rischio che non si riesca a consegnare il tutto entro il 30 settembre e quindi si è tornati a insistere per avere una proroga del referendum al 30 ottobre come gli altri referendum in corso attualmente. Esattamente così, da una parte abbiamo avuto una risposta straordinaria, io la considero e l'ho detto commovente da parte dei cittadini, cioè senza nei primi giorni un'informazione sul circuito mainstream, sui grandi media, sulle televisioni. Per i primi tre giorni noi abbiamo raccolto firme sul sito referendumcannabis.it, su cui ancora ricordiamolo si può firmare al ritmo di 100.000 al giorno, senza che vi fosse una notizia nei telegiornali, senza che vi fosse un giornale nazionale, una testata nazionale che ne parlasse. Tutto su un circuito social, soprattutto Instagram e tutto grazie ai canali nostri, vostri, di chi segue questo tema e di chi ritiene che sia una battaglia di civiltà, una battaglia di diritto e di diritti per tutti. Quindi da una parte questa mobilitazione straordinaria che dovrebbe essere vista come qualcosa che rafforza le istituzioni, la Costituzione e il Parlamento, cioè non bisogna averne paura, bisogna vederlo come una dinamica virtuosa, positiva, cioè funziona, si attivano gli strumenti che la Costituzione prevede, i cittadini si mobilitano all'interno di quelli binari democratici. Dall'altra parte abbiamo gli ostacoli che ritornano, è incredibile, subito, appena superati alcuni ne tornano altri, lo ricordavi tu. Per legge noi dobbiamo depositare non solo le firme dei cittadini che abbiamo e che sono autenticate e di questo con un sistema certificato con Speed, ma dobbiamo depositare anche i certificati elettorali di ognuno dei cittadini che hanno firmato e per farlo dobbiamo richiederlo ai comuni. I comuni hanno un termine improrogabile per rispondere alla PEC che noi già abbiamo inviato, il termine è già trascorso perché hanno 48 ore di tempo e le 48 ore di tempo sono passate questa mattina, questa mattina presto. La maggior parte dei comuni non hanno risposto, oppure hanno risposto che non riusciranno a evadere la richiesta nei tempi previsti dalla legge, perché ci sono le elezioni amministrative in corso e quindi gli uffici sono gli stessi uffici elettorali che devono in molti comuni organizzare le elezioni amministrative, perché? Perché per noi non possiamo essere inadempienti rispetto al termine che la legge ci dà per depositare in Cassazione che è quello del 30 settembre, un termine, qui è un po' complessa la cosa ma semplifichiamo al massimo, un termine che vale solo per questo referendum, perché a causa di una serie di interventi che ci sono stati per l'emergenza sanitaria quest'anno è stata allungata la finestra per il deposito dei referendum ed è stata, normalmente la finestra va da gennaio a settembre di ogni anno, è stata prorogata fino alla fine di ottobre, ma esclusivamente, e non si capisce perché, per quei quesiti depositati in Cassazione in un primo momento si diceva nella norma entro il 15 maggio, quindi erano esclusi anche quelli sulla giustizia, poi su pressione in particolare della Lega questo termine è stato portato al 15 giugno, quindi oggi per capire l'irrazionalità della legge, chi ha depositato il quesito, solamente il quesito, prima di iniziare a raccogliere le firme si deposita il quesito in Cassazione che viene pubblicato in gazzetta ufficiale, chi ha fatto questo deposito? Il 14 giugno ha tempo fino alla fine di ottobre per raccogliere le firme, chi lo ha fatto? Il 16 giugno ha tempo fino al 30 settembre, quindi è contraddittorio, è paradossale, ma noi siamo dentro a questa follia, vi viene da dire, burocratica e soprattutto rischiamo pur avendo in mano le firme dei cittadini sufficienti per chiedere che venga indetto un referendum, non abbiamo i certificati, quindi siamo stati davanti al Ministero della Giustizia a manifestare come comitato promotore chiedendo che urgentemente il governo intervenga con un decreto, con una norma, con una circolare, con quello che vogliono per chiarire che anche per il nostro referendum, anche per il referendum cannabis il termine è il 31 ottobre, in modo da avere tempo non di far di raccogliere altre firme, che comunque è importante averne e più ne avremo e meglio sarà in termini di pressione, ma di ricevere dai comuni certificati. Certo, quindi dando per scontato che questo passaggio avvenga, naturalmente vedremo come si evolverà la situazione e daremo le informazioni a riguardo, il passaggio successivo sarebbe il vaglio del quesito della Corte Costituzionale e poi eventualmente probabilmente il voto questa primavera. Ci ricordi brevemente i tre quesiti, i referendari cosa dicono? I tre punti, sì, in realtà è un quesito ma comprende tre interventi sugli articoli 73 e 74. Il primo intervento sull'articolo 73,1 toglie da tutte le condotte che sono indicate lì il coltiva, la parola coltiva dall'articolo 73,1 e quindi in questo caso giuridicamente il riferimento è direttamente alla coltivazione personale, perché ovviamente si poggia anche sulla sentenza della Corte di Cassazione. A chi ha osservato che in questo modo trattando l'articolo 73,1 non solo di cannabis ma di tutte le sostanze si va a consentire la coltivazione di altre sostanze, bene, letteralmente può sembrare così, ma restano tutte le altre punite, tutte le altre condotte, cioè produce, estrae, raffina e quindi evidentemente tutte le altre piante hanno bisogno di una lavorazione a differenza della cannabis per avere l'esito di avere la sostanza stupefacente. Poi abbiamo un intervento sul comma 4 dell'articolo 73 che è quello che riguarda le pene in particolare per la cannabis e lì si vanno a togliere tutte le sanzioni penali del carcere, la cosa si può riassumere dicendo mai più carcere per la cannabis. Infine c'è un intervento sull'articolo 75 per quanto riguarda la sanzione amministrativa della sospensione della patente che viene riservata e combinata a chi viene trovato in possesso di una quantità di stupefacente che viene riconosciuto essere per uso personale e noi togliamo la sanzione della sospensione della patente. Bisogna ricordare e specificare in questo caso lo facciamo sempre perché continuiamo a leggere sui giornali che c'è chi ci attribuisce con questo referendum di volere togliere il ritiro della patente previsto dal codice della strada quando si guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti che non è così. In realtà è la sanzione amministrativa che viene data anche a chi fermato mentre cammina per strada a piedi o mentre sta a casa sua con una quantità di stupefacente per consumo personale. Sono tantissime le persone che hanno ricevuto questa sanzione da quando è in vigore la legge, sono quasi 1 milione e 400 mila nel nostro paese ed è una sanzione molto afflittiva e odiosa a nostro avviso perché tra l'altro fa rientrare dalla finestra come sanzione amministrativa quello che il referendum del 1993 aveva tolto come sanzione penale e quindi è un modo di continuare in qualche modo a perseguitare i consumatori. Nel complesso questi interventi che sono solo abrogativi perché il referendum è solo abrogativo e non possiamo fare quello che possiamo fare con una proposta di legge, però questi interventi spingono chiaramente verso una nuova regolamentazione della cannabis perché a quel punto non hai più sanzioni penali per tutte le condotte relative alla cannabis, non hai più sanzione amministrativa, la principale per il consumo, ma restano quelle parti del testo unico in cui si dice che il Ministero può autorizzare alla produzione. Secondo noi resta già una prima bozza su cui poi il Parlamento dovrà intervenire ma ricevendo un'indicazione chiara, netta dai cittadini, resta una prima bozza di una nuova regolamentazione, cioè di dire che si potrà produrre, vendere, coltivare con autorizzazione, che è quello che poi noi vogliamo. Perfetto. Un'ultima cosa, mi permetto di ricordare che sul sito referendum cannabis.it è anche possibile donare perché l'associazione Coscioni sta ospitando la piattaforma e a loro ogni voto ha un costo di poco più di un euro se non erro e quindi servono donazioni per poter coprire più voti possibili. Questo è importantissimo, scusa Mario, perché effettivamente l'associazione Coscioni che ha messo a disposizione la piattaforma, la piattaforma digitale in tempi brevissimi per raccogliere le firme in modo assolutamente autenticato e legale, appunto sostiene questo costo ed è, io credo, dovuto anche in qualche modo riconoscere e sostenere l'iniziativa che è un'iniziativa di grande attivazione popolare. Certo, e non è neanche giusto che essendo stati così generosi i costi poi ricadano sulle loro spalle perché ricordiamo che è un'associazione che ha fatto delle battaglie fondamentali per il nostro paese e quindi è anche bene che abbia questo legittimo sostegno. Bene, allora io direi che possiamo chiudere qui. Ti ringrazio a nome mio e spero anche di tutti gli antiproibizionisti italiani per il lavoro che stai facendo insieme a Meglio Legale, all'associazione Coscioni, a Buon Diritto, a Forun Drug, insomma a tutte le associazioni antiproibizioniste che si stanno battendo così tanto in questo momento. Torneremo sicuramente a disturbarti più avanti per nuovi aggiornamenti e intanto ti auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi, a presto e continuiamo a lottare. Grazie a voi, a presto e continuiamo a lottare.